Ehi! Ah! 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 Raga! Lo stiamo devolendo e allora saltiamo il... Un computer mamma tutto tuo per te mamma! Ho trovato il mio computer che stai fattando! Qual è il problema? Aspetta... No! VAI! Un air! Se questo video arriva a 15.000 like io brucerò i vestiti più belli e costosi di mia sorella! Proprio accendo il falò e davanti a lei butto i suoi vestiti! Raga lo sapete che io sono pazzo lo faccio eh? Io faccio di tutto! Ehi là gente sono Cresima per gli amici sono anche Salvatore! Ragazzoli belli bentornati in questo nuovissimo video! Grazie macchina che passa! Grazie seconda macchina che passa! Oggi andremo a fare un qualcosa di veramente carino! Mi sono detto ma mia madre ormai che è diventata una youtuber infatti tutti... Abbiamo finito macchine? Dicevo ormai tutti la considerano una youtuber tanto che si faccia male addirittura mamma mad! Mi sono detto ma mia madre può continuare con il pc del 1800 a vivere? Ecco perché oggi ho deciso di spaccarglielo! Avete capito bene ma non vi preoccupate ho deciso anche di dargli il mio pc ovvero l'iMac quello air tipo... no il macbook quello air dato che mi sono comprato l'ipad da poco vabbè per i video che abbiamo fatto ho deciso di regalargli il mio pc quindi glielo spacco la faccio cagare in mano e poi gli regalo il mio pc andiamo a prenderli! Ohhhh ecco la mia stanza! E vi ho parlato della mia nuova fidanzata? Ciao fidanzata e cucciullino bella che sei e sei bellissima! Ops eh vabbè vabbè nel dubbio nel dubbio! Bene dobbiamo vedere dove prendere il mio vecchio pc perché io in realtà non lo uso da apparecchio! Ah adesso vi farò vedere anche il pc di mia madre che ho prelevato mentre lei lassù dormiva ok! Allora se non erro il mio pc dovrebbe essere tipo lassù cioè dentro sopra questi armadi quindi adesso cosa faccio? Salgo da qua oh 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 ok tutto tutto normale non vi preoccupate questo è il mio pc e ve lo scarto in live come ben vedete eccolo qua! Oh mia madre sarà proprio contenta di sapere quando gli rompere il suo pc oh eccolo qua ah ma voi direte allora che senso ha il video dato che poi gli dai un nuovo computer non è un vero e proprio scherzo è anche un regalo Sì in realtà è vero ma immaginatevi vostra madre che perde tutte le vostre ricette cioè tutte le ricette di casa perde tutte le foto dei compleanni dei poveri figli e beh gli verrà un infarto sicuro! Quindi questo è il computer io direi subito di metterlo e di chiuderlo soprattutto perché non se ne deve accorgere ecco chiuditi! Andiamo alla parte un po' meno bella questo pc mia mamma ha veramente questo pc raga è il pc del 1800! Ma vabbè mi sa che si deve collegare eh si è scarichissimo vabbè non... Raga ma che pc è? Ma che pc è? Ma che pc è? Ma che pc? Che pc? No non lo rompiamo prima del tempo e io direi di utilizzare anche un'altra fotocamera magari che mi metterò in testa quindi direi di andare lassù perché lo spaccherò in terrazza Questo me lo porto dalla scala lo spacco in terrazza raga sperando che lei non se ne accorga mi faccio aiutare magari da mia sorella a farne lo scherzo e vi dirò anche di più ok? Se questo video arriverà a 15.000 like io brucerò non sto scherzando se questo video arriva a 15.000 like io brucerò i vestiti più belli e costosi di mia sorella! Proprio accendo il falò e davanti a lei butto i suoi vestiti raga lo sapete che io sono pazzo lo faccio eh io faccio di tutto Like ora iscrizione e campanella andiamo andiamo diretto prendiamo questo prendiamo anche questo e signori siamo pronti a partire! Ragazzi ci siamo siamo arrivati e c'è anche Maglia in questa missione ciao Maglietto! Allora ragazzi qua vedete pure Maglia sta dicendo andiamo andiamo ci siamo io ho qua i miei pc dopo metterò magari la copro in testa Apriamo raga! Ci siamo raga! Allora mia madre in teoria è là dentro quindi non starà riposando direi che possiamo posizionare il pc Ci piano piano piano! Qua raga ok e noi questo qua lo nascondiamo dentro la scala quindi magari lo mettiamo dove abbiamo messo la copro qui Ok qua perfetto raga! Dobbiamo trovare un martello diciamo un qualcosa in questa chiamiamola ripostiglio e vabbè anche se ci sono lavori insomma dei muratori Un martello per esempio raga potremmo utilizzare questa pala oppure vediamo qua raga qua c'è una cassetta degli attrezzi c'è un martello non c'è un martello Bene! Martello? No! Niente! Ok bene! Per farci comodo ragazzoni utilizzeremo una bella pala! Oh! Così! Con questo spaccheremo il computer raga! Lo spaccheremo di brutto! Ok! Io adesso subito raga chiamo mia sorella e ci facciamo aiutare da lei! Metto la copro in testa e ci facciamo aiutare da lei! Sono pronto a spaccare il pc di mia madre! Mi ucciderà ne sono sicuro! Andiamo! Ragazzi ci siamo siamo pronti! Mia mamma è là! Ringraziamo il cameraman! Ciao cameraman! Hello! Eccoci mia sorella raga! Ci siamo! Prendiamo la pala! Seguitemi! Prendiamo la nostra pala! Dov'è la nostra pala? Eccola qui la nostra pala raga! E andiamo a comandare con la pala! Andiamo a comandare con la pala! Raga! Secondo me si incazzerà tantissimo raga! Siamo pronti a spaccare il pc! E allora andiamo con 5, 4, 3, 2, 1! Andiamo! Si sarà svegliata? No! Raga! E non lo usi! Non lo usi più stop it! Non lo! Non si usa più! E! Ah! 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 Raga! Lo stiamo devolendo! E allora saltiamoci! E allora! Allora! Ah! Raga ma non sei svegliata ancora? Ma non sei svegliata ancora? Non sei svegliata ancora? Boh! Non si svegliata! Non deve trovare, non è niente, sei svegliato, sei svegliato, sei svegliato, sei svegliato. Ciao mamma. Ma questo? Console. Ora, ma questo è il mio computer, sai, quale è il problema? Ma come cosa? Ma come cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma io? Ma io? Ma io? Ma io? Ma io? ma è solo un computer ma qual è il problema aspetta vieni qua aspetta mamma perfetto sai che dobbiamo fare mamma mamma no 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 mamma ma quale memoria mamma questo computer non lo utilizzi più ma mamma che è successo ma perché piangi ma non c'è bisogno di piangere mamma ma secondo te tu sei una youtuber calma secondo te tu da youtuber mamma sei calma tu da youtuber no 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 da youtuber puoi usare un computer del genere anzi sai che ti dico ti dico basta il suo computer basta mamma vieni qua questo è tuo mamma è tuo è un computer nuovo voglio quello mio tuo ora mi devi fare di nuovo è nuovo te lo regalo ma chi se ne frega li riprendi è un computer nuovo mamma io dato che mi sono comprato l'ipad non utilizzo aia non utilizzo più il mio io non ne voglio voglio quello mio guarda guarda qua mamma guarda qua mamma ah no 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 c'erano le mie cose registrate tutte le foto dove sono erano tutte le foto e vabbè sei tranquilla allora guarda qua un computer mamma tutto tuo per te mamma un air computer air che finalmente puoi imparare ad usare e non un computer del ancora regista e certo che registrare mamma no no che credino bello sto computer non mi piace voglio quello mio come vuoi quello mio no no piano questo vale a differenza di quello che vale 30 euro mamma mamma è un nuovo computer cosa vuoi di più nella vita sto male non voglio niente voglio quello mio tu mi devi dare il mio computer ma come vuoi il mio tuo computer vabbè allora te lo do sai che faccio mamma eh vieni qua guarda qua mamma facciamogli fare il volo no 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 come no il volo no no vai finalmente non puoi più usare ecco mamma goditelo dato che io non lo utilizzo più ti ho dato un computer finalmente nuovo e non lo utilizzerai più quella vecchia cata vecchia però volevo quello eh no mamma non ti preoccupare questo è un po' difficile allora come faccio quello avevo tu e tutti i miei dati dove sono tutte le ricette bimbi le ricette tutte le foto ma tu sei brava di tuo mamma a cucinare non hai bisogno di ricette non ti preoccupare signori il video termina qua mamma mad ha guadagnato un nuovo computer spazio pure questo calma 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 io ti insegno io voglio quello mio ecco allora mamma non ti preoccupare è tutto guadagnato signori il video finisce qua mamma mad è contenta non non sono contenta è contenta e io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine fatemi sapere non sono contenta voglio quello mio fatemi sapere è contenta raga fatemi è contenta fatemi sapere quale fatemi sapere quale scherzo dovrei fargli ancora voglio quello mio di demolizione cosa dovrei demolirgli secondo voi detto questo io ti demolisco il cervello invece però stai calma il video termina qua ci vediamo al prossimo video vado no 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 Grazie.